I carabinieri della stazione di Botricello nell'ambito dell'attività di prevenzione hanno eseguito un provvedimento di sospensione della licenza nei confronti di un noto locale per la durata di 15 giorni emesso dalla questura di Catanzaro su proposta del comando dell'arma di Botricello. Il locale secondo l'accusa si era trasformato in un centro di aggregazione per soggetti gravati da precedenti penali al punto da costituire concreto pericolo per la tutela dell'ordine pubblico e la serenità dei residenti. La situazione è fotografata dai carabinieri di Botricello che dopo aver ascoltato le lamentele dei cittadini e dopo mesi di osservazione hanno apposto i sigilli all'ingresso di un bar situato sulla strada principale del centro abitato. Tra gli ultimi episodi avvenuti una violenta lite fra i clienti sfociata successivamente nell'accoltellamento di uno di essi. Il provvedimento notificato è la temporanea sospensione della licenza al termine della quale l'esercizio potrà riprendere la sua attività. Il titolare rischia comunque la revoca definitiva della licenza qualora la situazione segnalata dai carabinieri non dovesse migliorare.